Prefettura di Pescara e Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara insieme per un ciclo di incontri su grandi temi dell'economia rivolto agli studenti degli istituti superiori della provincia. Il progetto è stato realizzato dal noto economista Pino Mauro e coordinato dalla Prefettura in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Annunzio, oltre al contributo fondamentale di Banca d'Italia, agenzie delle entrate, comando provinciale della Guardia di Finanza e ufficio scolastico regionale per offrire confidenza agli studenti liceali nei confronti di temi spesso visti con timore di fidenza come quelli dell'economia, della finanza e dell'impresa. Il ciclo a cui hanno partecipato il Geoclassico d'Annunzio e il Marconi di Pescara, il Liceo d'Ascanio di Montesilvano si è concluso oggi con un dibattito tra gli esperti e gli studenti che in questi mesi hanno lavorato su temi specifici, mostrando particolari interessi. È un progetto, come ho detto, innovativo perché intende offrire ai giovani del mondo della scuola, dell'università, quelle conoscenze nel campo economico-finanziario che sono generalmente non molto considerate e che invece hanno una valenza importante perché incidono sul futuro delle scelte che i giovani dovranno andare a fare. Dobbiamo essere quelli che veramente devono prendersi in carico i ragazzi prima che siano nostri studenti, accompagnarli nel percorso di studi e farli poi prendere in carico dalle imprese. La cosa che mi interessa di più è vedere, ed è bellissimo, 400 ragazzi dei licei che hanno deciso volontariamente di voler approfondire le loro nozioni, le loro competenze in ambito economico. È un tentativo di avvicinare i giovani a tematiche che sono sostanzialmente estranee alla loro formazione culturale. Sono tematiche però di tutti i giorni, cioè se noi parliamo di occupazione è chiaro che noi parliamo del loro destino, perché se l'occupazione cala è chiaro che c'è un segnale di allontanamento da parte della nostra regione. Quindi il tema io penso che sia di grande interesse per gli studenti che hanno seguito con molta attenzione, devo dire, e credo che la cosa possa proseguire anche coinvolgente esperienze imprenditoriali, come si fa un'impresa, quali sono i rischi che si assumono e soprattutto quali sono anche le sofferenze che un imprenditore deve assumere visto l'oscillazione dei mercati che è abbastanza continua.